Italian Miracle, cortometraggio abruzzese che ha Prodacan, Pietro Marchesani, uno degli attori di questo cortometraggio, una bella soddisfazione? Soprattutto un'esperienza incredibile per me che faccio tutt'altro dalla mattina a sera, è stata la prima, fino adesso unica esperienza, però è stato molto 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 bello. Miracolo italiano che si può verificare quando un ragazzo incontra una ragazza e dà un colpo di fulmine e poi per un evento particolare avrebbe anche il modo di rincontrarla, sebbene pensi che la cosa non sia più possibile. La produzione in realtà è totalmente londinese, The Despian Films, però ecco l'attore protagonista e regista e scrittore del soggetto è nato a Chiedi, Francesco Gabriele. Sicuramente per il territorio abruzzese spero e credo che possa essere motivo un po' di orgoglio, insomma questo in realtà è il corto che è l'esordio di Francesco. Una bellissima soddisfazione che ho avuto, insomma ho realizzato questo cortometraggio con troupe e parte del cast proveniente direttamente da Londra, dove attualmente risiedo e dove studio. Io ero con una ragazza americana e sono stato fidanzato per un po' e lei era molto credente. Immagina se andiamo a vivere insieme a Roma, che era questa la nostra, a trasferirci a Roma, e lei si confessava ogni settimana. Immagina se ti devi confessare e il prete non parla inglese e tu, lei ovviamente non parlava italiano e quindi da lì era nata un po' l'idea e all'inizio anche lei si era messa a ridere e tutto, poi seriamente mi fece, vabbè ma veramente se non parla inglese, cioè io come faccio? E là era venuta questa idea allora del ragazzo che traduce la confessione e poi ovviamente non d'accordo magari con tutte le parole del prete si prende la libertà di tradurre un po' a modo suo. La storia è finita, poi però mi sono detto questa storia prima o poi la troverò. Una volta passeggiavo per Sermoneta e sono rimasto incantato da questi paesaggi, questo villaggio che era proprio quello che cercavo e la gente stava molto disponibile, quindi molto molto soddisfatto.